E così, dopo il tempo della ricerca, è arrivato il tempo del comporre. Le idee, le immagini, i testi, le parole, i suoni, si sono affiancati ai documenti, assieme ai colori, in una forma contemporanea. Un magma vivo di contenuti e linguaggi ha trovato espressione in un tema visivo dove il viola e il verde, come il passato e il presente, si contaminano. Il patrimonio dei documenti d'archivio rende così nuova vita. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. 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 Grazie.